Vai, rossoneri, il primo round dei quarti di Champions League. Il Milan di Pioli batte il Napoli per 1-0 con un gol di Benasser, una delle poche azioni che i rossoneri hanno fatto vedere ieri sul campo di San Siro. Il Napoli non merita la sconfitta, complice un arbitraggio non all'altezza che a metà del secondo tempo con il secondo cartellino giallo manda negli spogliatoi Zambo Anghissà. Poco male, il Napoli visto in campo ieri può ribaltarla, la partita al Maradona si è visto il gioco, è tornato il Napoli che aveva abituato i suoi tifosi a grandi prestazioni. Non è tornato il gol, ma questo non è colpa degli uomini, di Spalletti lì davanti manca un centravanti e poco può fare, il povero Elmas ad affannarsi tutto il tempo tra le linee difensive senza mai essere davvero pericoloso. Dopo un solo giro di orologi i padroni di casa potrebbero essere già sotto, Anghissà prende il fondo dalla destra, la palla sfila in area piccola senza che Cagliari e Mainan intervengano e Baraschelia si fa murare sulla linea da Krunic a portiere battuto. Neanche il tempo di riprendersi che il Milan deve di nuovo correre ai ripari con il suo portiere che alza su una botta di Anghissà. Ci provano in sequenza di Lorenzo di testa, poi Kbara con Moivimento a rientrare dalla sinistra e al dodicesimo tocca Zelischi con un sinistro violento dalla distanza. Si deve attendere il minuto 25 per vedere il Milan, Leao va via a Rachmani resistendo anche al ritorno di Anghissà prima di far partire un sinistro che non si chiude a sufficienza e si spegne alla sinistra di Meret. La giocata ha il merito di allungare il Napoli, il Milan al minuto 40 passa, Diaz recupera palla a metà, scappa per via centrale e serve sulla destra Leao, il portoghese chiude la triangolazione con Benassere che con il destro la spinge dentro vanificando il tocco di Meret. Nella ripresa il Napoli macina gioco ma non è mai pungente, al 29esimo Anghissà ci mette il corpo per frenare Teo Hernandez e si prende il secondo giallo in 4 minuti. Pochi secondi dopo arriva anche il giallo per proteste a Kim che era diffidato. In 10 il Napoli ci prova lo stesso e solo la mano sinistra di Magnan nega di Lorenzo il pari, tenta anche Olivera di testa ma il colpo di coda non riesce. L'arbitro fischia, mancano 90 minuti al Maradona, sarà un'altra battaglia.